La nuova generazione di montagne russe e di legno, incredibile ma vero, negli ultimi tre anni negli Stati Uniti ne sono state inaugurate ben tre costruite combinando legno e acciaio. Il legno renderebbe i movimenti sulle rotaie molto più morbidi. In questo video vediamo la nuovissima struttura del parco divertimenti Silver Dollar City nel Missouri. Si chiama Outlaw Run, corsa fuori legge del primo percorso di montagne russe e legno con curve e inversioni.